Si è sfiorata la tragedia a Vallelunga. Nel corso di una lite avvenuta lo scorso 19 luglio, un uomo di 70 anni, Loreto Grasso, ha impugnato una pistola e fatto fuoco contro un vicino di casa, ferendolo alle gambe. Un gesto che è costato all'indagato l'arresto con applicazione della custodia cautelare in carcere, misura confermata dal GIP GGO Marmodica al termine dell'udienza di convalida. Tentato omicidio e lesioni le accuse più gravi contestate al settantenne Vallelunghese, a cui si aggiunge anche quella della ricettazione della pistola Beretta calibro 7,65 usata per sparare contro il vicino di casa, in quanto l'arma è risultata di provenienza illecita. Gli inquirenti stanno indagando per stabilire con precisione il movente dell'accaduto. Da una prima ricostruzione sembra che alla base di tutto vi siano delle questioni di vicinato. Nel corso dell'interrogatorio Grasso ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere. L'avvocato difensore Stefania Giambra ha presentato ricorso al tribunale del riesame.